Musica Voltiamo pagina e parliamo di una serie di eventi da non perdere che prendono il via all'auditorium Porta del Parco di Bagnoli da proprio da domani fino al 27 febbraio. Ci riferiamo quindi alla rassegna dal titolo Base per Altezza realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell'ambito del progetto Napoli Città della Musica e organizzata dall'Audio Live FM. Musica e Cultura Digital Radio e del gruppo LiveNet. Ne parliamo proprio stamattina con la prossima nostra ospite Rosanna Astengo. Buongiorno Rosanna e grazie per essere qui con noi. Ciao Diletta, grazie a voi. Cinque concerti, cinque momenti per esplorare dei generi musicali disomogeni direi eppure collegati in qualche modo tramite linguaggi e forme espressive non coincidenti. Tutto quindi per la scoperta di questo alfabeto musicale di base su cui si ponda poi ecco l'altezza dell'arte. Come nasce questa idea di questa rassegna? Beh abbiamo voluto proporre qualcosa che unisse l'antico e il contemporaneo quindi la grande tradizione della musica classica partendo da Bach che è considerato a tutti gli effetti il padre della musica occidentale moderna per poi esplorare appunto tutto quello che è l'altezza delle forme musicali più e più espressive quindi parliamo del jazz e del folk. Tra l'altro si alzerà il sipario domani con una serata davvero speciale e particolare a tema jazz. Quali sono gli altri concerti che saranno poi in programma? Sì domani si parte con i Brew Quartet che sono un quartetto jazz proveniente dal nostro territorio quindi anche per dare un'impronta di identità territoriale a questa rassegna. Proseguiamo il 24 di febbraio con il pianista Andrea Bacchetti che ci propone le variazioni Goldberg di Bach che sono considerate il più alto punto della sperimentazione di Bach per gli strumenti a tastiera. Proseguiamo il primo febbraio con Bella Dio che è un resita al tutto al femminile sul testo di Anita Pesce con delle musiciste sul palco assolutamente straordinarie. Poi andiamo avanti il 7 febbraio con Erika Picotti una violoncellista giovanissima già concertista internazionale nominata Young Artist of the Year qualche anno fa e soprannominata definita la Dea del Violoncello insomma dalla stampa proprio di recente e chiudiamo il 27 febbraio con Father and Son che è un recital insomma che insegue appunto inseguendo Chet Baker sul testo di Stefano Valanzuolo con altri grandi musicisti sul palco insomma che ci faranno fare un viaggio nella musica del jazz di Chet Baker. Diciamo che Napoli sta vivendo veramente un grande periodo di vivacità culturale e questa rassegna fa parte del grande progetto Napoli città della musica del comune di Napoli. Quali sono stati i criteri che hanno poi ispirato la scelta di questo cartellone? Innanzitutto volevamo dare una proposta diversa rispetto insomma alle altre proposte che ci sono all'interno di questo progetto che sono tutte proposte devo dire molto valide. volevamo dare un'impronta che identificasse anche un po' il nostro progetto che è Audio Live FM che è Musica e Cultura per cui uniamo questi due termini cercando di fare divulgazione culturale quindi portare a quanto più pubblico possibile il maggior numero di persone possibile una musica che viene ritenuta erroneamente a pannaggio soltanto delle alte schiere della società. Quindi tutti i concerti differenti ma vi è un filo conduttore che li lega tutti? Qual è nello specifico? Sì, il filo conduttore innanzitutto il fatto è che comunque si parte dalla base classica per poi svilupparsi nelle forme espressive che comunque muovono tutte dalla musica classica e sappiamo che Bach è ritenuto anche il più rock dei compositori se soltanto consideriamo degli assoli di chitarra possiamo prendere ad esempio Ingui Malmsteen ma anche Eddie Van Allen, insomma due grandi chitarristi se ascoltiamo i loro assoli ci ritroviamo tantissimo in quello che poi è stato Bach nel passato per cui possiamo anche riscoprire delle sonorità che ci sono familiari pur non essendone pienamente consapevoli quindi anche un percorso di consapevolezza che lega l'antico e il moderno e il contemporaneo. Siamo abituati a vedere le radio presenti ai vari eventi i rassegni, i concerti come radio ufficiali, i media partner ma non proprio come organizzatori degli eventi quindi possiamo dire che stiamo vicini anche a un nuovo modo di concepire e vivere la radio non solo come mezzo di comunicazione appunto ma con una visione molto più ampia. Esattamente, è la prima volta che Audio Live FM, che è la radio che dirigo organizza una rassegna musicale soprattutto di questo spessore anzi ringrazio anche tutti gli artisti che hanno abbracciato questo progetto con grande entusiasmo ritengo che la radio non debba essere chiusa all'interno dello studio ma debba uscire, debba andare tra la gente e debba essere quanto più possibile fatta conoscere ma deve diventare anche un mezzo di divulgazione e di conoscenza non soltanto di intrattenimento se poi lo si fa in una maniera leggera anche non di da scalica ma divulgativa senza essere in cattedra questo è quello che abbiamo sempre voluto portare e ci pare che ci stiamo riuscendo insomma i numeri ci stanno premiando anzi siamo molto contenti siamo soprattutto molto emozionati perché poi domani ci sarà il debutto ecco proprio come radio noi ci teniamo tantissimo perché la musica è parte integrante di un progetto radiofonico e quindi questa ibridazione dei linguaggi è anche un modo nuovo di concepire la radio e quindi ricordiamo ancora una volta velocemente l'appuntamento all'auditorium Porta del Parco di Bagnoli da domani fino al 27 febbraio con base per altezza noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia stamattina e quindi ringraziamo Rosanna Astengo e noi ci vediamo tra pochissimo dopo un piccolo break rimanete con noi in mattina live